Le nipoti di re Carlo, la principessa Eugenia e la principessa Beatrice, sono destinate ad assumere maggiori responsabilità nella famiglia reale. La principessa Beatrice e la principessa Eugenia, potrebbero avere un nuovo ruolo sotto re Carlo, mentre il suo piano per una nuova monarchia snellita si materializza, ha affermato un esperto reale. L'ex maggiordomo del monarca, Grant Harrold, ha detto che esiste un piano in atto affinché i reali più giovani si facciano avanti, e si assumano maggiori responsabilità memmano che i reali più anziani invecchiano. Ha detto a Slingo, ovviamente William e Kate continueranno a farsi avanti, ma vedo anche i cugini reali che interverranno. E ha aggiunto che, anche se non vede Zara Tindall assumersi maggiori responsabilità, perché non è cosa sua, Beatrice ed Eugenie, hanno già dimostrato che sono lì per sostenere, e sono chiamate a sostenere il re quando necessario. L'ex maggiordomo ha continuato dicendo che il duca e la duchessa di Edimburgo, il principe Edoardo e Sofì, sono ancora giovani, e hanno dimostrato di poter fare un passo avanti mentre ha espresso la speranza di vedere la principessa reale, continuare a svolgere le sue funzioni per diversi anni. Venire. Penso che ci sia un piano in atto memmano che i reali invecchiano, le generazioni più giovani assumeranno di più. Ha aggiunto. L'esperto ha anche avvertito di ulteriori cambiamenti in arrivo nel nucleo della famiglia reale, poiché il re mira a mostrare la sua monarchia snella con attenzione e dignitosamente. Arnold ritiene che siano in arrivo ulteriori cambiamenti, sottolineando che il numero limitato di reali che appaiono sul balcone di Buckingham Palace al Trooping The Color, all'inizio di quest'anno ne è un ottimo esempio. Edoardo e Sofì